Il progetto che prende il nome di Respivirnet è un progetto che è partito l'anno scorso. In realtà è un progetto che è partito molti anni fa e la rete si chiamava Influnet, dove il nostro laboratorio di Pescara era il laboratorio responsabile per l'intera regione e così lo è pure per il progetto denominato Respivirnet. La differenza è che mentre prima era una rete di controllo dell'influenza virus che circolava nei vari territori italiani, adesso con Respivirnet noi non andiamo solamente a monitorare la presenza del virus influenzale, ma di tutta una serie di virus che possono dare una sindrome influenzale a cominciare da Covid-19. Ma Covid-19, gli altri terinovirus, dei virus parainfluenzali, adenovirus e cos'altro, i coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2. Insomma andiamo a monitorare tutti questi virus per cercare di dare un contributo importante dal punto di vista epidemiologico. Come funziona? È un tipo di sorveglianza integrata. Allora, si parte dai medici di medicina generale, quindi quelli che stanno sul territorio, e dai pediatri di libera scelta. Chi aderisce diventa medico sentinella, in quanto deve, in una prima fase, questa prima fase che dura un mese da lunedì scorso fino praticamente a metà novembre, questi medici di sentinella devono notificare solamente i casi di sospetti di sindrome influenzale. In una seconda fase, che inizierà appunto dalla metà di novembre fino ad aprile, questi medici di sentinella preleveranno un tampone nasale che ci manderanno qui a Pescara come centro di riferimento e noi praticamente faremo le indagini molecolari per vedere qual è stato l'agente esiologico responsabile di quella sindrome influenzale. Poi i nostri dati vengono ovviamente inviati tempestivamente al centro coordinatore che è l'Istituto Superiore di Sanità. In questa maniera si riesce ad avere un quadro molto più completo di quella che è la circolazione di questi virus che danno una sindrome influenzale. Ecco il nome Respy Virnet.